Controlli straordinari dei carabinieri di Schio che hanno portato a due denunce e tre segnalazioni. Un uomo è stato denunciato per l'ipotesi di reato di porto abusivo di armi, poiché il sottoposto controllo in zona stazione ferroviaria è stato trovato in possesso di tre coltelli a serramani con nascosti nello zaino che sono stati sequestrati. Carabinieri che sono intervenuti anche a seguito di un sinistro stradale senza feriti, in cui una donna si è rifiutata di sottoporsi agli accertamenti per la guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti. È scattata la denuncia, il ritiro della patente, il veicolo è stato sequestrato. Infine tre giovani in centro storico sono stati trovati in possesso per uso personale di alcune dosi di sostanza stupefacente. Per loro è scattata la segnalazione amministrativa alla Prefettura di Vicenza.